Sono stato al negozio dell'usato e ho acquistato questi tre giochi Pokémon nella speranza di trovare qualche vecchio salvataggio dei precedenti proprietari. Oggi quindi scaveremo in questo Pokémon bianco, ma fammi subito sapere se vuoi vedere altri video come questo. Punto numero uno, dobbiamo sperare assolutamente che funzioni. Andiamo a toccare e lo legge. Ok, lo legge. Uh, Cindy, Via Vittoria, 8 medaglie, 47 ore di gioco e 270 Pokémon catturati. Ok, qui sono in Via Vittoria, vediamo un po' che Pokémon abbiamo. Ok, un Excadrill, 61, Virision, Kobalion, Zekrom, assolutamente non può mancare, Samuroth e Unfezzant. Andiamo a ritirare qualche Pokémon, vediamo, vediamo se sono pieni o meno. Ok, mi sa che qualcuno prima di vendere questo gioco si è trasferito un bel po' di Pokémon.